Minacce e intimidazioni. Si parte sempre da questo modo us operandis, quando qualcuno, legato alla criminalità organizzata, ha intenzione di metterle mani su una proprietà non ottenibile attraverso i normali canali di compravendita. Da alcuni di questi episodi sono scaturite le indagini portate avanti dai carabinieri a Isola Caporizzuto e a Cotronae, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di nove persone, di cui cinque in carcere e quattro agli arresti domiciliari, tra le quali spicca la figura di un soggetto appartenente ad un'andrina denominata Macario, mai censita prima, le cui dinamiche criminali la collocano nell'alveo della più antica e nota Cosca Arena, in virtù di accertati legami di parentela. Attiva a Isola Caporizzuto, in modo quasi esclusivo in un territorio a forte vocazione agricola e turistica denominato località marinella. I reati ipotizzati vanno dall'associazione a delinquere di tipo mafioso, all'estorsione, al danneggiamento, falso materiale ideologico, truffa anche aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, invasione di terreni o ed edifici, furto in abitazione aggravato, calunnia, il tutto aggravato dal cosiddetto metodo mafioso. Gli episodi ai più acclatanti riguardano la cosiddetta guardiania a strutture turistiche, il tentativo di acquisizione di terreni dati in uso all'ARSAC, la truffa aggravata e continuata ai danni della GEA e del relativo ente regionale erogatore dei contributi, l'ARCEA, mediante la falsificazione della documentazione attestante il possesso o l'uso di terreni agricoli. E proprio a seguito di ciò è stata anche data esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per equivalente di 45.000 euro, frutto delle erogazioni percepite senza titolo.